come su noi da principio questo è il titolo di un'opera particolare cari amici telespettatori che oggi presento alla vostra attenzione si tratta questa volta non di un libro ma di un dvd che raccoglie tutto il lavoro sia documentale ma anche diciamo di tutte le iniziative che si sono tenute in occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione della chiesa delle assemblee di dio in italia di napoli un anniversario importante per il quale si sono intese dare vita a diverse iniziative tra cui la più importante un culto di ringraziamento e per raccontarvi un po come si è svolto questo lavoro il contenuto di questo dvd oggi mi voglio avvalere dell'aiuto del dell'amico giovanni tagliaferri anche lui membro come me non solo della chiesa ad di napoli ma anche diciamo un collaboratore di alcuni progetti che si sono tenuti all'interno di questo video documentario che appunto si intitola come su noi da principio prende appunto spunto da un verso in atti 1 15 il desiderio l'obiettivo per il quale è stato elaborato questo lavoro è proprio quello di ricordare che la stessa lo stesso zero la stessa fede che è stata propria dei padri e dei pionieri pentecostali possa accompagnare anche oggi la chiesa pentecostale si tratta di un anniversario importante e appunto il lavoro diciamo che è stato svolto è stato un video documentario un documentario sulla storia della chiesa in particolare si sono intervistati i pionieri i protagonisti quelli rimasti in vita poi ci sono state alcune interviste che sono state riportate ma a proposito di questo la prima domanda un po per alternarmi nella narrazione di questo di questo video documentario quella che rivolgo a Giovanni nel spiegarci un po la struttura di come è strutturato questo lavoro qual è il contenuto di questo dvd sì come tu dicevi abbiamo pensato di strutturare questo dvd con quattro sezioni una prima sezione dedicata al video documentario un video documentario che racconta la storia della chiesa di napoli dai primi culti nelle case fino agli culti nella chiesa di via carafa che poi all'interno del documentario si può visionare una parte che riguarda la chiesa di napoli oggi con le diverse attività delle attività musicali all'attività di evangelizzazione la scuola domenicale le attività rivolte ai bambini gli adolescenti la riunione dei giovani le attività video con le trasmissioni online poi c'è una seconda parte con la galleria fotografica molto bella e molto toccante dove si possono vedere delle foto storiche di culti fatti decenni fa di dei pionieri delle degli incontri con fratelli che venivano dall'america da altri da altri continenti contenenti una terza parte che quella proprio del culto di ringraziamento quindi la ripresa del culto di ringraziamento e infine una parte che riguarda la rassegna stampa una parte interessante sia perché questo evento è stato riportato da diverse testate anche nazionali cito protestantesimo sul re 2 il tg regionale della campagna diversi emittenti regionali ma anche perché abbiamo avuto l'opportunità di fare diverse interviste ad autorità presenti dopo ne parleremo nello specifico ma anche ai pastori intervenuti quindi giovanni ci ha spiegato un po lo scheletro e la struttura di questo video documentario è doveroso ringraziare un po quello che è stato il lavoro di supervisione del pastore davide di orio dei grandi contributi di prima mano storici che sono venuti dal pastore emerito daniele melluso poi giovanni dopo ci parlerà di un'intervista che è nel video documentario il progetto per la parte storica me ne sono occupato personalmente c'è stata una fase di montaggio post produzione e tutto un progetto un grosso lavoro grafico di gianni cuciniello il responsabile di riprese video è stato franco ciotola ovviamente vorrei citare tutti i tanti giovani tra cui quello che più ha collaborato Sergio Cristoforo che hanno dato vita a questo progetto ovviamente ci sono tutti i pastori che hanno partecipato con le loro interviste ci sono stati contributi all'interno del video documentario anche di personaggi come valdospini il senatore lucio malan professori accademici come carmine napolitano come professor rinaldi insomma un mosaico attraverso il quale abbiamo voluto in qualche modo ha avuto un po questa presunzione di spiegare la storia della chiesa adi di napoli giovanni ci facevi cenno alla parte della rassegna stampa di questo video allora prima di fare poi un passo indietro e ritoccare alcuni passaggi storici vorrei che tu ci spiegassi questo momento in cui molto particolare in questo clima di festa nella chiesa adi di napoli il 3 gennaio del 2013 si sono riunite tutte quelle che io definisco le diverse espressioni che in 80 anni di storia sono nate nel mondo pentecostale ma che si sono riconosciute con un atto simbolico prendendo parte a questa a questo culto di ringraziamento al culto del 3 gennaio quasi come per dire la storia il punto di partenza è stato comune per tutti in quel giorno prima del culto ti sei proprio interessato tu di raccogliere delle interviste a chi e quale sono state le domande che hai fatto e quali sono state le emozioni che sono poi venute fuori sì come tu accennavi abbiamo avuto questa opportunità prima e dopo il culto di ringraziamento di poter intervistare un po tutti i pastori presenti sono stati momenti anche emozionanti per esempio ricordo e cito l'intervista al pastore stefano d'alessandro pastore ora in merito della chiesa di casal nuovo che aveva un rapporto diretto con il fondatore della chiesa di napoli il pastore salvatore anastasio lui nel raccontare proprio gli episodi di vita di vita che avevano caratterizzato il rapporto tra lui e salvatore anastasio ha cominciato a piangere si è commosso a ricordare quei momenti di gioia di benedizione momenti in cui era era in fase iniziale il movimento pentecostale e la presenza di dio e il risveglio operava in maniera forte e potente quindi cito stefano d'alessandro ma ovviamente non posso far a meno di citare il pastore daniele melluso colui che diciamo con il suo pastorato ha permesso ha dato impulso alla costruzione anche della chiesa attuale a via carafa colui che ha avuto diciamo gli è stato trasferito il mandato se così vogliamo dire da da salvatore anastasio è colui che è stato il mio pastore e quindi c'è stato un doppio motivo di onore e di affetto verso il pastore daniele melluso sicuramente hanno avuto una valenza importante anche le interviste fatte alle autorità presenti dicevi tu prima che c'erano delle autorità dobbiamo citare il sindaco il vicepresidente del consiglio comunale il senatore intervenuto protestante la cosa bella è stata intervistare anche pastori delle diverse denominazioni perché va detto che questo culto è stato anche un momento di comunione fraterna che ha permesso di poter condividere la presenza di dio e la benedizione di dio a pastori anche delle diverse denominazioni quindi diciamo una serata un'occasione che è stato non solo prima lo definivo un atto simbolico ma giustamente dove facevi riferimento anche ad una comunione fraterna spirituale con tutti questi personaggi che sono intervenuti effettivamente non possiamo che constatare anche con un pizzico di orgoglio come comunità pentecostali che 80 anni fa eravamo perseguitati oggi il primo cittadino della terza città d'italia il sindaco di napoli è venuto ad onorare questa questa questo culto di ringraziamento e come mi sono permesso di sottolineare durante il mio intervento in quell'occasione consideriamo non tanto l'onore che questi personaggi ci hanno concesso ma soprattutto l'opportunità che dio ha voluto concedere alle loro vite facendoli assistere a quello che prima di tutto è stato un culto di ringraziamento al signore per 80 anni di storia proprio proprio su questo io riflettevo qualche giorno fa al di là del fatto che è un piacere per noi aver avuto nella nostra comunità il sindaco e le varie autorità presenti e come dicevi tu pensare che 80 anni fa la chiesa di costantinopoli fu chiusa qualche mese dopo a causa della persecuzione ed oggi abbiamo la possibilità di avere le autorità che liberamente vengono nelle nostre comunità come istituzione è comunque un gran passo avanti proprio di libertà della nostra nazione per noi ci fa piacere ma la cosa fondamentale non è stato avere il sindaco perché lì in quel culto di ringraziamento c'era la presenza di dio e noi crediamo che la persona più importante intervenuta era sicuramente dio ma a volte è complicato poter testimoniare a queste persone che sono in vista a queste persone che vivono tutti i giorni sull'onda dell'opinione pubblica e per noi è stato un privilegio come tu dicevi poter testimoniare dell'evangelo e dell'esperienza di salvezza e di redenzione di gesù cristo a persone che tutti i giorni magari non hanno questa opportunità perché sono difficilmente raggiungibili il sindaco il vicepresidente del consiglio ma anche a tutti quelli che hanno potuto vedere su tg2 su tg3 questo queste immagini sicuramente un momento di testimonianza importante così come importante le varie trasmissioni video che permettono attraverso la televisione di poter entrare nella chiesa anche chi magari per diversi motivi non ci entra fisicamente devo dire che condivido questo pensiero di giovanni capirete in 15 minuti la durata della nostra rubrica è difficile spiegare un lavoro che ha richiesto mesi di lavoro di produzione vi assicuro che il video documentario che potete avere potete avere modo di visionare con questo dvd è veramente toccante non mi voglio soffermare perché potrei poi incurrere nel pericolo di citare o non citare qualche pioniere che invece tanto ha dato e ha fatto per l'opera di dio devo dire che tutto questo è stato possibile grazie ad una regia forse in certi momenti invisibili che è stata non solo quella di dio che ha permesso che si potesse godere di questo di questa comunione fraterna ma grazie anche alla strumentalità di alcuni suoi servitori come il pastore attuale della chiesa adi di napoli che davide di orio che ha potuto incoraggiare giovani come noi impegnati un po nella ricerca storica di poter ecco mettere insieme tutti questi tasselli e poter far sì che potesse avere luogo un momento storico di riflessione così importante come quello di uno di un ottantenne 80 anni effettivamente non sono pochi soprattutto dio è stato sempre fedele e vicino a questa a questa chiesa ora in questo lavoro c'è una una descrizione che ha fatto giovanni che sicuramente è esaustiva di tutto quello che è lo scheletro come prima dicevo di questo di questo dvd il consiglio però è che noi dobbiamo in qualche modo approfondirci su quelle per dare anche qualche consiglio sugli spazi temporali vorrei che giovanni ci ricordasse in pochi secondi quelli che sono stati gli anni perché poi è vero che è un documentario che interessa tutti i pentecostali in particolare campani ma se volessimo racchiudere nella vita dei pastori di questa chiesa se ce li poi alcuni li abbiamo ricordati ma anche diciamo che la chiesa di napoli negli suoi 80 anni di vita ha visto succedersi tre pastori primo salvatore anastasio il fondatore della chiesa di napoli ha avuto la possibilità da parte di dio di ministrare l'evangelo dal 1933 al 1977 daniele melluso successivamente dal 1978 al 2010 e dal 2010 ad oggi abbiamo il pastore davide di orio sicuramente questa storia racconta di come dai primi giorni di costantinopoli la chiesa chiusa alla persecuzione alla cosiddetta grotticella cioè la chiesa di san giovanni a carbonara si è potuto passare a mater dei uno storico locale di culto fino ad arrivare ad oggi a via carafa in questi anni sicuramente la storia ha raccontato tante conversioni ha raccontato tanti battesimi di spirito santo ha raccontato soprattutto tanti pastori e tanti servitori di dio che partendo dalla chiesa di napoli sono andati ad evangelizzare amministrare la parola di dio un po in tutta l'italia sul culto di ringraziamento che tu dicevi prima accennavi prima io voglio diciamo raccontare la mia impressione vi posso garantire che nonostante la formalità la solennità del momento e nonostante i tanti invitati abbiamo avuto il privilegio di sentire la presenza di dio presente in quel locale perché come dice la scrittura dovunque due o tre sono radunati io sono in mezzo a loro e dio è stato presente in quel culto io sono convinto che la presenza di dio l'hanno potuto avvertire anche i presenti che non avevano fatto ancora un'esperienza non hanno ancora un rapporto con dio hanno potuto sentire la presenza di dio il sindaco il vicepresidente probabilmente chi stava lì con le televisioni perché noi sappiamo che in tutti i mezzi il signore si usa un po di tutti i mezzi per poter evangelizzare e far vedere che lui è ancora oggi vivente un'occasione dunque importante soprattutto per evangelizzare e devo dire molti si sono domandati di quelli che possono essere le ripercussioni e le conseguenze di un fatto storico che ha visto la partecipazione tra gli altri lo vorrei dire di del presidente della federazione delle chiese pentecostali remo cristallo insieme a lui tanti pastori oggi esponenti di altre realtà pentecostali che pure si sono riconosciuti e hanno dato questo questa adesione all'ottantennio della chiesa di napoli è chiaro si tratta di emozioni che anche noi che proveniamo da famiglie che hanno fatto la storia del movimento pentecostale in campagna ci toccano da vicino sapete alla figura di salvatore anastasio il mio bisnonno ho dedicato una biografia degli speciali anche nella rubrica libro aperto abbiamo parlato del pastore melluso stiamo insomma discutendo di uomini che veramente hanno fatto la storia grazie all'aiuto e al sostegno di dio diciamo che a conclusione ne possiamo dire come il titolo di dvd la cosa più importante che come 80 anni fa su di noi dal principio come dal principio la presenza di dio ancora oggi come 80 anni fa ci porta avanti e ci dà l'opportunità di diffondere l'evangelo grazie a giovanni per avermi assistito in questa presentazione è chiaro non abbiamo detto tutto forse non abbiamo detto abbastanza ma forse quel poco perché tutti possano comprendere e capire che vale davvero la pena capire da dove siamo venuti per apprezzare la libertà sia diciamo di culto ma anche spirituale che oggi abbiamo di onorare e pregare il nostro signore io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di al libro aperto grazie a tutti 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 Grazie a tutti.